GKN passa all'unanimità in aula una mozione contro il licenziamento dei 422 lavoratori. Conferito il gonfalone d'argento alla Fondazione Stella Maris, eccellenza nella neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Presentato il volume Imperfect, realizzato dagli alunni della Scuola Media Gonnelli di Montaione e Gambassi Terme, accompagnerà gli atleti paralimpici a Tokyo. GKN, l'impegno del Consiglio. Non è una battaglia dei soli lavoratori, ma di tutte le istituzioni. Non basta dare vicinanza e sostegno ai lavoratori, questa avvertenza deve essere risolta. È davvero inaccettabile scappare la notte senza guardare negli occhi quei lavoratori e quelle lavoratrici che chiedono solo dignità. Un'azienda che non aveva perdite, in grado di stare sul mercato, che decide dalla sera alla mattina di lasciare per strada 500 lavoratori con le proprie famiglie, compie un gesto ignobile. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeva, in apertura dei lavori in aula, ha messo in votazione la mozione sulla tutela dei lavoratori dello stabilimento GKN di Campi Bisenzio, sottoscritta da tutti i capi gruppo, frutto del lavoro della Commissione Sviluppo Economico. L'azienda ha avviato le procedure per il licenziamento di tutti i 422 dipendenti dello stabilimento fiorentino. Sono felice che tutte le forze politiche abbiano deciso di sottoscrivere, di firmare questa mozione che dice sostanzialmente tre cose. La prima, che quella fabbrica deve riaprire, che deve ritornare la produzione. La seconda è che GKN torni indietro, il fondo Merros torni indietro e decisa di ritirare i licenziamenti. E la terza al Governo, al Parlamento, all'Unione Europea, perché mettano in campo normative che vadano nella direzione di disincentivare le delequalizzazioni. È un attacco ignobile e vile alla dignità delle persone, anche di quegli imprenditori che si mettono in gioco con il proprio capitale, che hanno le lacrime agli occhi per il licenziamento anche di un solo dipendente, ha affermato la Presidente della Commissione Sviluppo Economico e l'area Bugetti. Di qui non si passa, questo è il segnale che vogliamo mandare a chi nel futuro opererà nella stessa brutale maniera. È un segnale davvero forte. Noi chiediamo alcune cose molto chiare. Il ritiro del licenziamento delle 422 persone, chiediamo di attivare subito tutti gli strumenti di sostegno ai lavoratori, di attivare i percorsi previsti dalle crisi di impresa, che saranno poi, avrebbero dovuto essere operativi, dal primo settembre e che quindi non è possibile in questo momento attivarli. Quindi abbiamo chiesto al Governo un impegno forte, l'abbiamo chiesto anche all'Europa, perché il senso vero è che non ci siano GKN né oggi né domani. Dalla Regione deve arrivare un segnale che queste pratiche non sono consentite. Quindi dobbiamo attivare tutti gli strumenti necessari perché questo, che è il primo grande esempio, sia l'ultimo e che si riesca a salvare queste persone che non vogliono neanche venire a un tavolo delle trattative, così come ci hanno detto, neppure con la Regione. Al centro della mozione, approvata all'unanimità dall'Aula, c'è la richiesta del ritiro immediato del licenziamento collettivo e l'attivazione degli ammortizzatori sociali, un obiettivo da raggiungere in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, gli enti locali, le rappresentanze economiche e sociali. Accanto a questo c'è un impegno ad attivarsi con il Parlamento e il Governo per porre limiti più stringenti alla disciplina delle delocalizzazioni per le imprese che beneficiano dei aiuti pubblici, valutando tutti gli spazi possibili per un intervento regionale. Sempre insieme a Parlamento e il Governo si cercherà nell'Unione Europea di promuovere una cultura del lavoro come base della dignità umana, con tutto ciò che questo comporta. In prospettiva, alla luce del nuovo codice delle crisi di impresa, potrà essere previsto l'obbligo di comunicazione in caso di crisi aziendali. GKN è un caso nazionale, non soltanto per il numero di persone, di famiglie che sono coinvolte, ma soprattutto per le modalità con cui questo è avvenuto, che richiama tristemente quanto già è successo con Beckert, che ha visto all'epoca l'impegno del Ministro Di Maio. La Vice Ministra Todd è stata immediatamente da noi avvisata e dopo l'incontro che ci è stato fatto ha dichiarato chiaramente che non accetterà una soluzione di questo tipo e continuerà a lavorare per far sì che si ritorni indietro, si faccia un passo indietro sui licenziamenti. E questo è l'impegno che dobbiamo avere tutti, come Regione e come Governo, proprio perché purtroppo c'è stato lo sblocco dei licenziamenti, cosa che il Movimento 5 Stelle, diversamente da tutte le altre forze politiche e dell'arco governativo ha combattuto, significa che dovremmo combattere molto per tutti quei lavoratori che in questo momento sono a rischio del loro posto di lavoro. E si parla di circa 15.000 in tutta la Toscana. Un sostegno forte, unanime, una mozione che impegna il Governo a trovare una soluzione urgente, immediata, a bloccare i licenziamenti collettivi, a tutelare le famiglie, i lavoratori, le persone chiedono dignità, chiedono lavoro, siamo vicini alla loro sofferenza, alla fatica. Alla loro protesta, ma soprattutto serve che il Governo faccia presente a livello internazionale, alle multinazionali, il ruolo importante della localizzazione di queste grandi aziende e non si può ovviamente dalla sera alla mattina chiudere un'attività imprenditoriale, non si può dalla sera alla mattina abbandonare la forza lavoro, le persone che fino al giorno precedente hanno dato tanto della loro vita, la loro anima, la loro identità, la loro dignità per portare avanti poi gli interessi economici di un'impresa. Quindi serve una risposta immediata e servono anche leggi, normative e mi auguro un atto urgente del Governo per sospendere i procedimenti, per discutere ovviamente con l'azienda e costringere ovviamente le imprese che operano nel nostro Paese a un dialogo costante con le istituzioni. L'impegno del Consiglio è stato unanime. Le aziende che rappresentano una ricchezza del territorio, che lo Stato nazionale non fa niente per difenderle, finiscono nelle mani non di investitori stranieri, che sarebbe poco male, ma di fondi speculativi che vivono la realtà aziendale unicamente come un più e un meno su un registro bancario e questo porta alla situazione della CKN. Io sulla CKN non mi stancherò mai di dire però una cosa, l'unica peculiarità di CKN è che CKN non produce pantaloni, CKN non produce magliette che vanno sul mercato, CKN all'80% produce pezzi per Fiat, cioè l'azienda che ha fatto del Made in Italy il proprio brand in tutto il mondo. Ed è vergognoso che un'azienda come Fiat, che negli anni ha vissuto di incentivi, di aiuti, di sostegni da parte dello Stato italiano, non abbia speso una parola sulla questione CKN. Perché un intervento di Fiat che ci dicesse che per le auto che in tutto il mondo vende col marchio Made in Italy i pezzi prodotti a Campi Bisenzio non sono uguali ai pezzi prodotti in Polonia, forse potrebbe anche portare a un ripensamento di Melrose. Silenzio assoluto che fa veramente male. I temi del lavoro, della tutela dell'occupazione, sono temi che devono unire le istituzioni, che devono manifestare vicinanza soprattutto a tutte quelle famiglie che dall'oggi al domani si ritroveranno a mettere in dubbio un percorso di vita. Quindi su questo, ripeto, la politica si deve unire. È chiaro che ora c'è una sfida importante, una sfida però che chiama la politica alle proprie responsabilità. C'è una sfida che parte a livello di Ministero dello Sviluppo Economico. Il peso della Toscana oggi comunque si è fatto sentire a livello istituzionale, ma questo non basta. C'è la parte statale, la questione ministeriale, ma c'è anche una parte regionale. E per quello che noi possiamo fare sicuramente l'obiettivo principale è uno, quello di agire per quanto più possibile, sia sotto il profilo della tutela, ma soprattutto sotto il profilo, nella denegata ipotesi, in cui purtroppo i licenziamenti dovessero concretizzarsi, soprattutto sul fronte della reintroduzione al lavoro. La Toscana deve fare di più, può fare di più sul fronte dell'occupazione e sul fronte della tutela proprio dei lavoratori. Noi abbiamo sempre sostenuto che quello che è successo non solo è inaccettabile, ma è anche uno schiaffo al nostro sistema paese. Occorre che immediatamente il governo si faccia sentire e non è una questione legata al blocco o allo sblocco dei licenziamenti, è una questione legata alla dignità dei lavoratori e alla dignità di questo paese. Non si può pensare per chiunque, sia esso un investitore straniero o un investitore italiano, arrivare nel nostro paese, cercare di prendere quello che c'è e poi abbandonare tutti. La questione dei licenziamenti è inaccettabile, immorale e va immediatamente respinta. Per questo noi abbiamo chiesto, fin dall'inizio, che i lavoratori vengano immediatamente riassunti e che si apra non solo un tavolo con quell'azienda, ma con tutte le nostre aziende del territorio, per far capire che il governo e il Regione stanno dalla parte dei lavoratori, stanno dalla parte dell'impresa, quando fra questi c'è un rapporto fatto di serietà e di rispetto reciproco. È inaccettabile quando uno dei due, siano essi i lavoratori o siano essi i proprietari delle imprese, pensano che il rapporto è squilibrato rispetto a quello che c'è in campo. Spetta alla politica a fare da arbitro. Gonfalone d'argento alla Stella Maris La Fondazione Stella Maris, eccellenza ospedaliera, con sede in provincia di Pisa, specializzata nella neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, ha ricevuto il gonfalone d'argento. Il massimo riconoscimento del Consiglio regionale della Toscana è stato consegnato dal Presidente dell'Assemblea Antonio Mazzeo a Giuliano Maffei, Presidente dell'Istituto, attivo dal 1958. Oltre 60 anni, siamo nel 1958, la fondazione ha la sua nascita. Significa speranza che è stata data a molte famiglie, a migliaia, migliaia, migliaia di famiglie che si sono rivolte a noi con i loro bambini. Quindi è una carezza, a me piace definire la speranza una carezza di eternità. E con la speranza si fanno tante cose, male che vada si migliora la qualità della vita. Io sono davvero orgoglioso e felice di poter premiare un'eccellenza della nostra sanità in un tempo difficile come quello che abbiamo vissuto durante il Covid. Ancora di più il ruolo della Stella Maris è fondamentale. I disturbi neuropsichiatrici dei bimbi più piccoli ne fanno la loro capacità di ricerca, la multidisciplinarietà, l'attenzione alla persona, alle persone. Ne fanno davvero un'eccellenza che ci invidia in tutto il mondo. Un grazie di cuore alle professioniste e ai professionisti. Questo premio è tutto per loro. Presente alla cerimonia anche il Vescovo di San Miniato, Andrea Migliavacca, diocesi da cui è nata la fondazione, punto di riferimento all'avanguardia, anche nel campo della ricerca. Un traguardo che, potremmo dire, ci rende orgogliosi per quello che la Stella Maris è e fa. E mi pare che questo riconoscimento sottolinei la presenza della Stella Maris in realtà è mondi molto importanti. Anzitutto il mondo della sanità. Ed è una struttura ospedaliera, tra l'altro, in via di sviluppo nell'ottica del nuovo ospedale, che vuole portare il proprio contributo nella sanità nazionale e in un settore particolarmente importante e delicato. Poi è una struttura che opera per il mondo dei piccoli e della fragilità. Più conosciuto certamente è l'ospedale, dove si curano bimbi con problemi di carattere neurologico. Ma poi vi sono altri centri, Casa Verde, Montalto, e poi ci si sposterà anche come sedi per accogliere situazioni di fragilità, che vuol dire attenzione a chi soffre, a chi è in difficoltà, ma anche alle famiglie di queste persone. E poi ancora è una realtà che appartiene al mondo della ricerca, perché a Stella Maris si sviluppa una ricerca di alto livello e infine opera nel mondo ecclesiale. Si ricordava che Stella Maris nasce dalla diocesi di San Mignato, ha un legame profondo, anche strutturale, giuridico, attraverso il presidente della Stella Maris e quindi anche a livello ecclesiale come diocesi siamo certamente contenti. Un libro sullo sport che unisce La dedica speciale è ad Alessandro Zanardi, rimasto vittima lo scorso anno di un terribile incidente, ma il libro Imperfect, un'opera grafica realizzata dagli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Gonnelli di Montaione e Gambassi Terme, è un omaggio e un incoraggiamento a tutti gli atleti paralimpici che parteciperanno alle prossime Paralimpiadi di Tokyo. Un titolo che gioca con la lingua inglese per lanciare un messaggio di fiducia e uguaglianza. La semplice traduzione ci suggerisce di leggere in perfetto, ma la silabazione trasforma tutto in io sono perfetto. E ogni pagina del libro propone un'opera grafica su sfondo nero, dove sono rappresentati gli atleti delle varie discipline sportive avvolti in un tricolore. A ideare il progetto l'insegnante di arte Marco Catone. Siamo davvero contenti di poter ospitare qui in Consiglio regionale la presentazione di questo libro Imperfect, che è davvero un fiore all'occhiello di come i nostri ragazzi possano avere la capacità di saper guardare il futuro in maniera molto migliore anche rispetto a noi. Consentitemi di ringraziare il sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti, per essere insieme a noi, Enrico Sostegni per aver voluto fortemente questa iniziativa, la dirigente scolastica del istituto comprensivo di Gambassi Terme in Montaione. Il ringraziamento a lei è un ringraziamento da stendere a tutti i docenti della scuola, a tutte le ragazze, a tutti i ragazzi. È davvero un onore pensare che questo libro, che è il frutto anche di sapersi guardare dentro, possa essere uno strumento che noi mettiamo a disposizione di tutte quelle donne, di tutti quegli uomini, di tutte quelle ragazze, di tutti quei ragazzi che andranno a rappresentare l'Italia ai giochi paraolimpici. Il sindaco prima diceva che non c'è differenza, è vero, non c'è differenza. Io mi auguro che questi momenti servano proprio a sensibilizzare e che il tifo che noi italiani abbiamo voluto dare alla Nazionale Italiana di Calcio, che daremo a tutte le atlete e a tutti gli atleti, vedo collegato qui Massimo Porciani, che saluto a tutti coloro i quali parteciperanno alle paraolimpiadi, possano sentire lo stesso affetto. Io mi auguro che tante Toscane e tanti Toscani possano dare il loro contributo. Già ci sono alcuni atleti toscani che sono iscritti alle paraolimpiadi, io mi auguro davvero che possa sventolare nel cielo di Tokyo non solo le bandiere italiane, ma anche le bandiere della nostra Toscana. E' importante il messaggio che viene dato, e cioè sempre quello di una comunità che vuole essere sempre più aperta a ognuno, a tutte le differenze. E questo anche il titolo, Imperfect, è comunque un titolo che gioca su una differenza letterale che significa appunto quello che vogliamo dire, e cioè che le nostre comunità ritengono e lo sport può essere un valore di integrazione e di valorizzazione delle differenze assolutamente eccezionale.